Vorrei. Vorrei svegliarmi una mattina, pensando di aver fatto un brutto sogno, perché di un mondo migliore anch'io ho bisogno. Guardando la televisione provo solo angoscia e delusione. Non si parla che di corruzione, di ragazze violentate, di famiglie dalla droga o altro, rovinate. Vite spezzate, innocenti creature fra i rifiuti abbandonate, mentre la terra trema sotto il peso di un'atroce guerra. Solo l'uomo ha rovinato ciò che Dio di così bello ha creato. Tutti insieme ora dobbiamo lottare perché il mondo possa cambiare. Donare un tetto a chi più non ce l'ha, tendere la mano in segno di solidarietà. Creare la pace per chi pace più non ha. Donare un sorriso ad un volto dalle lacrime intriso. Tralasciare l'egoismo e la superficialità. E pensare a chi il calore di una famiglia più non ha. È un enorme sacrificio, ma a tutti porterebbe beneficio. Preghiamo Dio perché le tenebre che avvolgono questa terra inghiottano l'assurdità di questa terrificante guerra e spero che l'alba di un nuovo giorno sia l'inizio di un nuovo mondo. Grazie a tutti.